Os 2023 continua, siamo allo stand di Old Coffee, una società a servizio completo per le torrefazioni con servizi e sistemi per il packaging il servizio e non ultimo la produzione di cialde di caffè con una divisione appena nata, siamo in compagnia di Carlo Contaldo, il responsabile di sviluppo commerciale per l'azienda, caro Carlo, tu sei il benvenuto. Grazie Fabio, ti ringrazio per l'invito e l'intervista, sì come accennavi siamo produttori di film, di carta ma non di cialde, della carta che verrà utilizzata dai nostri clienti e torrefattori per la produzione appunto delle loro cialde. E io ci sarei arrivato immediatamente dopo il tuo saluto al pubblico perché voi avete realizzato dopo cinque anni di sperimentazioni spendendo una cifra esorbitante per andare a produrre il prodotto perfetto per la realizzazione delle cialde, un prodotto che si trova proprio alle nostre spalle che pare sia veramente perfetto. Io poi ironicamente con qualche dubbio dico pare che, ma in realtà lo dicono anche tanti altri torrefattori. Esatto esatto, il nostro staff ricerca sviluppo ha impiegato come accennavi cinque anni e ha investito più di 5 milioni di euro per realizzare un prodotto che sia altamente performante sia dal punto di vista di macchinabilità e di erogazione e lo affermano anche i test effettuati su tutte le macchine e anche attraverso il TDS ovvero la quantità di sostanze solite rilasciate e filtrate dalla carta stessa. Quali sono le caratteristiche di questo prodotto che vedo può addirittura supportare la stampa a colori? Esattamente abbiamo creato una carta che diciamo andasse a filtrare il caffè e a ottenere un risultato simile a quello espresso da bar e abbiamo deciso di personalizzarlo con un logo evergreen, la compostabile italiana, poiché verrà prodotto e trasformato qui a Salerno e sarà prodotto in tricolore quindi bianco, rosso e verde per dare l'italianità e trasferire l'italianità anche ai torrefattori che producono in Italia e che esportano all'estero. Evergreen sarà soprattutto una società benefit perché e a chi sarà destinato il profitto ricevuto attraverso le vendite? Sì una parte del profitto sarà destinato all'università Unimeyer che è una università che si occupa sia di sostenibilità infatti Evergreen sposa la sostenibilità ed è un'azienda come accennavi benefit e la carta è una carta certificata da TUV quindi ha superato tutti i test affinché venga certificata compostabile e sostenibile. Beh tanta roba insomma Carlo. Certo esattamente. Siete molto contenti e soddisfatti di questo prodotto dopo cinque anni di studi, sacrifici, non lo dimentichiamo e inserimento nel mercato con una garanzia altissima per i produttori. Esatto siamo soddisfatti perché abbiamo passato sicuramente tante difficoltà, le abbiamo superate e oggi il nostro prodotto dà un'erogazione eccellente e inoltre abbiamo tanti vantaggi oltre alla qualità anche il rapporto qualità prezzo che è uno dei fattori fondamentali per chi produce. E allora forniamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale potervi contattare e richiedere maggiori informazioni senza alcun impegno. Allora un indirizzo di posta elettronica è info.allcoffeebrand.com alla quale possono inviarci richieste di informazioni e richieste di quotazioni. Carlo Contaldo grazie. Grazie a te Fabio per l'intervista e per essere venuto qui a salutarci.